Ciao a tutti, che cos'è la chimica tra due persone? Spesso si dice è un fattore chimico che ci unisce. In realtà, dietro a quello che chiamiamo con chimica, ci sono delle compatibilità, delle affinità. È quasi come se ci fosse una complementarietà. E la complementarietà avviene su quattro punti fondamentali. C'è una complementarietà fisica, cioè fisicamente le persone si trovano a pelle. A pelle cosa significa? Significa che secondo il tatto, l'olfatto e il gusto. Questo è fondamentale perché se tu riesci a generare, diciamo, un contatto fisico positivo è perché i sensi sono, diciamo, i sensi legati al tatto, all'olfatto e al gusto sono in sintonia fondamentalmente. Quindi questo è una compatibilità sensoriale. Poi ci deve essere una compatibilità emotiva, ci deve essere una complementarietà emotiva. Significa che le persone emotivamente, si crea un ciclo di emozioni che ci si ricarica emotivamente a vicenda. Ci si ricarica e si scarica a vicenda. Per cui tu mi amplifichi delle emozioni, me le fai scaricare, io le amplifico e te le faccio scaricare. E quindi diventa un ciclo. E queste emozioni sono compatibili anche per la parte logica. Quindi sono emozioni che ci danno piacere fondamentalmente. E poi abbiamo una sfera cognitiva. La sfera cognitiva è legata a tutto ciò che riguarda la sfera razionale. Il fatto di avere delle credenze in comune, dei valori in comune. Questo anche è molto importante per avere una compatibilità chimica, tra virgolette, quello che viene chiamato chimica. E poi infine c'è qualcosa di importante che è una complementarietà, una compatibilità spirituale. Cioè c'è una stessa, o non, o assenza di spiritualità. Però questo vorrebbe dire anche chimica. Perché anche c'è una sfera energetica superiore, potremmo definire la spirituale, che accomuna le persone. Alle volte, ripeto, si accomunano per l'assenza di questa. Perché però è il legame molto meno solido. Se c'è anche una compatibilità spirituale, cioè a livello energetico, le persone sono in sintonia. Quindi non tanto a livello di corpo fisico, ma di corpo energetico, che è addirittura di corpo molto sottile, di corpo d'anima. C'è un entanglement, quello che la fisica quantistica chiama con il termine entanglement. Cioè un'unione fondamentalmente. Per cui quello che succede a una persona, automaticamente viene percepito dall'altra. A livello quasi telepatico. Ecco, questa è la, diciamo, la chimica completa. Poi può esserci dei fattori chimici parziali, tra virgolette, quando non sono sviluppati tutti e quattro. Ma se sono sviluppati tutti e quattro, c'è proprio una chimica completa. Potremmo dire la fiamma gemella, insomma. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!